Non solo giocatori, volti nuovi anche nello staff tecnico dell'HD Assicurazione. Alessandro Adonisi sarà un tecnico per l'Under 21 che anche quest'anno parteciperà al campionato nazionale. Innanzitutto parlaci un po' del tuo curriculum come tecnico, magari anche come giocatore. Io come giocatore ho giocato 7-8 anni sempre in terra veronese nell'Audace fra C2 e C1. Sono allenatore, ho fatto 3 anni all'Under 18 dell'Audace facendo anche dei buoni risultati rapportato al tipo di rosa che avevo. L'anno scorso sono stato in terra vicentina a Cornedo dove ho svolto il ruolo di allenatore in seconda nella prima squadra e supervisore tecnico dell'Under 18 collaborando anche in parte minore con i giovanissimi e ora sono qua. Passi da una regione dove il settore giovanile del calcio 5 ormai conclamato e diciamo anche con una buona esperienza alle spalle arrivi in una regione dove il settore giovanile diciamo che è ancora all'inizio, quindi cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Questo può essere anche uno stimolo. Io mi aspetto di fare crescere quest'Under 21 che comunque l'anno scorso ho mosso già dei passi abbastanza importanti. nessun proclamo però puntiamo a fare meglio, poi dove arriveremo lo vedremo alla fine.